Torna l'allarme sicurezza Pescara, 15 anni accoltellato in un bar del centro, identificato il responsabile, la vittima ricoverata in chirurgia pediatrica in condizioni stabili. Meno complicanze post-operatorie e gestione ottimale della rianimazione, la recovery room inaugurata oggi al Cardarelli di Campobasso innalza il livello di sicurezza delle cure. Non c'è diossina nell'aria, scuole e attività aperte dopo lo spaventoso incendio che ha distrutto la fabbrica che produce materiale plastico a Chieti. Il ministro Matteo Piantedosi, il 30 ottobre a Campobasso per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unimol, scoppia la protesta, l'appello di intellettuali ed esponenti politici del centro-sinistra e della società civile, vertenza vigilanza, lavoratori dal prefetto. Momenti di tensione a Giulianova per lo sgombero del campetto Castorani, soddisfatta la presidente dell'ASP2 Palestini. Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, grande manifestazione a Isernia, la Giovanni XXIII nel rione San Lazzaro. Infine lo sport, il calcio di Serie C, il Pescara si gode, la vetta della classifica De Marco, grande gruppo e grande mister. Il Campobasso oggi torna ad allenarsi e sogna l'impresa a Terni, Serie D, il DG dell'Isernia Palmegiano contro il Teramo, tutti allo stadio. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione, siamo in diretta, in apertura c'è la cronaca. Torna l'allarme sicurezza a Pescara dopo l'accoltellamento di un 15enne in un bar del centro. Indaga la squadra mobile che avrebbe già individuato il responsabile, il ragazzino è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Le sue condizioni sono stabili, non rischia la vita. Intanto i cittadini chiedono più controlli. Sentiamo tutto da Valentina Ciarlante. Via Firenze, piano centro di Pescara. È a pochi passi da noi che nelle scorse ore è stato accoltellato il ragazzino straniero di 15 anni con più colpi all'addome e alla spalla. Da il ragazzino che poi si è rivolto al farmacista per chiedere aiuto, sono quindi scattati subito i soccorsi e anche le indagini della squadra mobile per identificare l'aggressore. Sembrava una sera come tante nella zona pedonale di Pescara, nel luogo della movida del passeggio, ma quella serata è stata sconvolta dall'ennesimo fatto di sangue. Per motivi al vaglio della polizia, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in un bar molto frequentato. La squadra mobile ha ascoltato le persone presenti sul posto e sta analizzando le immagini dell'impianto di videosorveglianza della zona. Sentiti anche gli operatori del bar, la scientifica ha effettuato i rilievi e subito è stato identificato l'aggressore. Il ragazzino sanguinante è entrato nella farmacia che si trova a pochi passi all'incrocio con Via Trieste, chiedendo l'aiuto del titolare Maurizio Mignella. E' venuto a rifugiarsi praticamente qui dentro ed era sanguinante. Mi ha detto che era stato accoltellato ed era molto agitato. L'ho fatto accomodare, l'ho cercato di tranquillizzare e ho chiamato aiuto perché non potevo fare altro. Aveva tutto questo braccio sanguinante, perdeva molto sangue. Poi è stato lei a chiamare i soccorsi? Esattamente, il 112 certo. Sono arrivati subito e hanno provveduto a medicarlo. Si indaga per capire da cosa sia nata la lite culminata con l'accoltellamento del 15enne da parte di un coetaneo, poco più. Si tratta infatti di un nuovo episodio che vede coinvolti giovanissimi e ancora nel centro della città di Pescara. I residenti dicono che alle 8 sembra scatti il coprifuoco in quella zona. A giugno la tragica uccisione di Crocs. Ad agosto l'altro accoltellamento in Via Parini. E poi, situazioni analoghe sul lungomare per tutta l'estate, i cittadini tornano a chiedere più controlli. Non è più tranquilla neanche Pescara, non specialmente qui al centro. Alle 8 c'è il coprifuoco, veramente. Quindi nonostante siamo in centro, alle 8 di sera qui... È deserto, non si vede un'anima e quindi siamo in casa. Purtroppo Pescara è diventata malfamata come tutte le altre città. Io non ho figli, ma per chi li ha i ragazzini c'è da preoccuparsi. Vedremo se risolveranno. Sta cambiando tutto. Noi da ragazzi eravamo molto più tranquilli e non siamo vecchi. Quindi penso che sia proprio la società di adesso che sta cambiando. Dovrebbe partire dalle famiglie, ascoltare un po' più i ragazzi, i giovani, perché sono più episodi giovanili. E anche la società è cambiata. Certo, qualche controllo in più non farebbe male. Magari è il caso di fare più controlli. Non lo so, le soluzioni ci sono, si devono trovare. Torneremo tra un po' alla cronaca. Ora parliamo di sanità di sanità molisana. Meno complicanze. Post operatorie e gestione ottimale della rianimazione. La recovery room inaugurata questa mattina al Cardarelli di Campobasso innalza il livello di sicurezza delle cure. Hanno sottolineato i vertici dell'azienda sanitaria regionale del Molise. All'ospedale di Campobasso ha riaperto i battenti anche la mensa Rita Iacobucci. Cardine del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, la sicurezza delle cure è oggi l'obiettivo più perseguito da aziende sanitarie e ospedaliere. Un passo avanti notevole su questo terreno il Cardarelli di Campobasso lo ha compiuto con l'inaugurazione della recovery room, unità della rianimazione specializzata nel risveglio dei pazienti dopo un intervento chirurgico diretta da Vincenzo Cuzzone. Lo stato attuale dispone di quattro posti letto che hanno la possibilità di avere un monitoraggio sincronizzato, cioè una centrale dalla quale noi riusciamo a monitorizzare fino a quattro pazienti in contemporanea. Su queste postazioni arrivano pazienti delle branche chirurgiche maggiori, chirurgia vascolare, ortopedia, otorrinolaringoiatria per interventi di chirurgia oncologica complessa, chirurgia generale, da pochi mesi anche della chirurgia epatobiliare e ci consente di monitorare i pazienti finché non raggiungiamo margini di sicurezza tale che ci consenta di trasferire in sicurezza, ripeto, il paziente dalla sala operatoria direttamente al reparto. Questo ci consente anche di fare un monitoraggio invasivo e quindi prevenire anche il ricorso alla terapia intensiva. È stata un'operazione, ha sottolineato il direttore sanitario dell'ASREM, Bruno Carabellese, anche di chirurgia economica. L'obiettivo è innanzitutto di rendere sempre più certe e sicure le cure. L'altro importantissimo obiettivo che abbiamo ottenuto è quello di scaricare la rianimazione da incombenze come appunto il posto operatorio che in qualche modo occupavano i posti che in rianimazione arrivano fino a 3.500 euro al giorno. Abbiamo raddoppiato il numero delle sale, da 5 siamo passati a 10. L'altra cosa importante è che il dottore Cuzzone sta allevando, nel senso più bello del termine, dei giovani specializzanti. Ci abbiamo creduto, continuiamo a crederci. La sanità molisana ha messo in evidenza la direttrice amministrativa Grazia Matarante e deve continuare a sviluppare competenze per cure più sicure. Medico e direttore generale, il DG Giovanni Di Santo è stato il primo promotore della Recovery Room. Oltre alla Recovery Room, oramai siamo in H24 per quanto riguarda la partoanalgesia e ancora di più con questo stesso team stiamo mettendo su un pick team che diventa importante perché la possibilità di accessi venosi, non solo in ospedale ma anche sul territorio, diventeranno una condizione sine qua non per quella famosa integrazione ospedale-territorio che può essere e dovrà essere il nostro fiore all'occhiello. Da qualche ora, sempre all'ospedale del Capologo Molisano, è tornata in funzione dopo un lungo stop la mensa aziendale. Aperta a dipendenti, familiari, deteggenti e studenti universitari, i locali sono stati riadattati con un lavoro congiunto del Dipartimento di Prevenzione guidato dalla dottoressa Carmen Montanaro e dell'Ufficio Logistica, diretto da Bruno Natale. Torniamo alla cronaca, non c'è diossina nell'area, scuole e attività aperte a Chieti questa la notizia emersa dai rilievi dell'Agenzia per la tutela ambientale dopo l'incendio che ha distrutto una fabbrica che produce materiale plastico nella zona industriale della città è stata aperta anche un'inchiesta. Sentite. Quasi 20 ore di lavoro in interrotto per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Chieti prima di avere ragione delle fiamme che hanno distrutto i capannoni di magma l'azienda dell'area industriale della città teatina che lavora la plastica riciclata è andata completamente in fumo. Dalle ore 21 di lunedì sono state impegnate 10 squadre dei vigili del fuoco mezzi speciali, uomini anche del Comando di Pescara altri mezzi antincendio dell'aeroporto d'Abruzzo di cui uno con una portata da 24.000 litri. In prefettura nuovo incontro a distanza tra tutte le istituzioni di riferimento e deputate a gestire quella che è stata una vera emergenza per 24 ore e poi la buona notizia nell'area non c'è diossina lo hanno garantito i tecnici dell'Agenzia regionale di tutela ambientale dopo aver effettuato dei test rendendo noti anche i buoni risultati del rilevamento registrato dalle centraline nell'area Chieti-Pescara nessun superamento dei valori limite per la protezione della salute umana intanto la procura di Chieti ha aperto un fascicolo per accertare l'origine e la causa dell'incendio al momento l'ipotesi è rogo colposo a carico di ignoti indaga la squadra mobile di Chieti pare che i primi a intervenire siano stati due addetti della fabbrica che usando gli estintori hanno tentato di frenare il rogo arrivato poi a devastare l'azienda e a creare grande allarme con fiamme e fumo alti decine di metri intanto il sindaco Diego Ferrara ha dato l'ok alla riapertura delle scuole e delle attività i fumi non ci sono più stanno iniziando a fare un'opera di movimentazione terra per la bonifica però questa bonifica rimane confinata nell'area dell'azienda colpita dall'incendio stesso non c'è diossina l'arta ci ha dato questa notizia le altre nove persone sono finite in manette nell'ambito della maxi operazione antidroga della direzione distrittuale antimafia che ha smantellato il sudalizio criminale che spacciava cocaina tra Puglia, Abruzzo e Molise dopo i 13 arresti eseguiti alcuni giorni fa oggi il GIP ha disposto alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 9 soggetti e l'obbligo di dimora nei confronti di altri 6 tra questi persone della provincia di Pescara e di Termoli gli indagati nell'operazione SED condotta dalla DIA e diretta dalla direzione distrittuale antimafia di Bari si legge in una nota stampa avrebbero costituito la rete di distribuzione degli imponenti quantitativi di cocaina purissima un giro d'affari di circa 3,5 milioni di euro l'anno era evaso 7 volte dagli arresti domiciliari e in una di queste occasioni aveva approfittato anche per scippare un'anziana signora così in 32enne di penne è stato tradotto in carcere dai carabinieri sconterai in cena alla pena di 13 anni e 5 mesi di reclusione cui è stato condannato per molteplici reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 ed il 2019 sei giovani si sono introdotti clandestinamente all'interno di un casolare in un abitato e sono stati beccati e bloccati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Teramo l'allarme ieri sera è stato dato dal proprietario del casolare che aveva notato delle luci all'interno ai militari una volta intervenuti hanno identificato tutti i soggetti anche con l'aiuto di una pattuglia della questura intellettuali e esponenti politici di centro-sinistra e della società civile hanno firmato l'appello per protestare contro la presenza a Campobasso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Molise è prevista per il 30 di ottobre del ministro degli interni Matteo piante e dosi in una regione come il Molise che dà scarsissime possibilità lavorative nei laureati in un paese che conta un tasso di laureati che è tra i più bassi d'Europa dove l'ascensione sociale è rotta da decenni e il diritto all'istruzione è in pratica negato l'Università del Molise pensa bene di invitare uno dei massimi rappresentanti di una stretta punitiva e sicuritaria nelle aule universitarie non ci dovrebbe essere posto per il carcere e manganello elevati a dogma di gestione dell'ordine pubblico scrivono gli organizzatori della protesta che invitano i docenti, gli studenti, i rappresentanti istituzionali sinceramente democratici, rappresentanti politici, sindacali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato a disertare l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza di piante e dosi come atto visibile e concreto contro le politiche repressive che il governo Meloni sta mettendo in essere Restiamo a Campobasso perché torniamo ad occuparci dell'avvertenza vigilanza i lavoratori del settore questa mattina hanno incontrato il prefetto per noi c'era Noemi Galuppo che ha intervistato anche i lavoratori che hanno detto dateci la possibilità di portare il pane a casa sentite Davanti alla prefettura di Campobasso i 23 lavoratori della vigilanza presso la regione molise in presidio la mobilitazione organizzata dai sindacati Wiltux e Fisaskat Cisl continua nonostante le rassicurazioni avute dal presidente della regione molise Francesco Roberti chiedono di revocare il bando sulla vigilanza nelle sedi regionali perché fa acqua da tutte le parti una richiesta che il sindacalista Pasquale Guarracino ha portato addirittura sul tavolo del prefetto Michela Lattarulo è un casino diciamo che sono riusciti a combinarne una tutta in salsa molisana era difficile per quanto mi riguarda sono anni che facciamo questo mestiere che ci battiamo per i lavoratori non avevamo mai visto un bando così sbagliato dalla A alla Z il prefetto in maniera molto chiara ed esaustiva ha assolutamente dichiarato che adesso anche loro per conto loro sentivano il presidente della regione ma noi abbiamo fatto di più abbiamo chiesto alla prefettura quindi al massimo organo di controllo rispetto a questa regione l'applicazione vera del decreto 269 perché il decreto 269 esiste anche per il Molise quindi il Molise che tanto si vuole mettere in pari e rispettare le regole e fa bene perché questa gara d'appalto ricordiamo a tutti che sono 22 anni che non si fa la gara d'appalto nella vigilanza quindi noi chiediamo che la gara d'appalto venga fatta ma con il rispetto del decreto legge 269 ecco cosa chiedono i lavoratori ma noi chiediamo intanto il continuum del nostro lavoro della possibilità di portare ancora a casa quei 1200 euro perché a casa dietro ogni lavoratore c'è una famiglia ci sono dei figli, ci sono dei mutui da pagare e delle spese da fare adesso sentirsi dopo, almeno nel caso mio 21 anni di lavoro trovarsi in mezzo a una strada lo ritengo una cosa oltretutto per un risparmio esiguo per qualcosa di irrisorio veramente per una regione vogliamo il rispetto per il nostro lavoro che svolgiamo ogni giorno con grande professionalità e con grande puntualità ebbene sì, i rischi per i lavoratori sono troppo alti come spiega il segretario interregionale FISCAT CISL Abruzzo Molise Stefano Murazzo che assicura manifestazione ad oltranza senza cambiamenti immediati ci sono due rischi il primo è le perdite occupazionali perché così come è stato costruito il bando ci sono circa 500 ore in meno e quindi la società che subentrerà evidentemente non riprenderà tutti il secondo rischio concreto è quello della riduzione degli stipendi perché passerebbero da guardie armate a guardiania quindi a servizi fiduciari con una attribuzione più bassa se oggi siamo a circa 1200 euro domani arriveranno a 800-900 euro abbiamo già programmato altri presidi e se sarà necessario provvederemo alla comunicazione dello sciopero la situazione economico-finanziaria della regione Molise da profondo rosso a dirlo è la consigliera regionale del PD Michela Fanelli all'assessore regionale al bilancio Gianluca Cefaratti dico tre cose dice Fanelli meno tasse per i redditi bassi e una avvertenza di equità con il governo attui gli impegni della legge di stabilità nazionale per dare chiarezza e trasparenza e consenta al Consiglio di poter svolgere il ruolo di controllo si faccia aiutare e acceleri discuteremo a breve una mozione su questi temi mi aspetto si entri nel merito in modo costruttivo e ora andiamo a Chieti dove si è insediato questa mattina il prefetto Cupello sinergie con tutti per la legalità lo ha intervistato Valentina Ciorla sinergia tra istituzioni e cittadini ovvero tra tutti coloro che stanno dalla stessa parte quella delle regole della legalità e del respingimento dei tentativi di infiltrazioni criminali è questa una delle linee guida del prefetto di Chieti Gaetano Cupello che si è insediato ufficialmente nel palazzo di Corso Marrucino l'obiettivo è mantenere attrattivo per gli imprenditori e sicuro per tutti un territorio che non ha mai visto lo scioglimento di alcun comune per mafia ma che non è un'isola felice ormai non ne esistono più ha detto chiaramente il prefetto l'argomento legato alle autonomie locali è quello che ha caratterizzato gran parte della carriera del prefetto Cupello a lungo in servizio negli uffici del governo di Caserta e Napoli qui ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto e poi di vicario da luglio 2022 fino al trasferimento a Chieti sappiamo che la provincia più popolata dell'Abruzzo è anche quella che ha il tessuto economico produttivo più importante quindi diciamo è un territorio da salvaguardare e da curare con molta attenzione c'è stato diciamo proprio al momento dell'insediamento questa coda diciamo dell'incendio che si è verificato il giorno precedente però diciamo la situazione è assolutamente diciamo ormai sotto controllo Il prefetto Cupello, 61 anni ha svolto in molte circostanze il ruolo di commissario straordinario in comuni che hanno visto lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni malavituose l'ultimo è stato bolla in precedenza a Castellammare di Stabia e in merito alle interdittive antimafia diverse quelle emanate dal suo predecessore Mario della Cioppa il prefetto assicura massima attenzione per il territorio della provincia di Chieti è uno dei compiti voi sapete diciamo attraverso i quali il prefetto esercita lo strumento della prevenzione per il contrasto alla criminalità organizzata e sicuramente diciamo su questa scia noi continueremo ripeto rispetto ai segnali che dovessero emergere Andiamo a Giulianova perché si sono vissuti momenti di tensione per fortuna senza alcuna grave conseguenza in occasione della ripresa del campetto del Castorani che dunque è tornato nella piena disponibilità dei ragazzi di Rubilandia sentiamo Chiara Bonanzi Al termine di una manifestazione con alcuni ragazzi di Rubilandia di una lunga trattativa da parte della presidente dell'ASP2 Giulia Palestrini e degli uomini della Digos il campetto del Castorani a Giulianova occupato dai ragazzi del campetto occupato torna ai proprietari ci sono stati diversi momenti di tensione da gestire e alcune parole intimidatorie indirizzate al sindaco Costantini presente insieme alla sua giunta per questo sono arrivate anche le dichiarazioni da parte del presidente Marco Marsiglio che ha espresso la sua solidarietà al primo cittadino ai ragazzi e alla presidente dell'ASP2 a nome dell'interaggiunta regionale questa volta invece non ci è voluto neanche tanto tempo perché siamo stati molto incisivi nel senso che era una vergogna che quattro persone tenessero questo campo riqualificato come vedete a servizio dell'istituto Castorani e anche degli istituti scolastici fuori con noi c'erano non solo diversi insegnanti che hanno più volto soffitto della struttura ma c'erano anche i ragazzi di Rurabilanti i ragazzi del Castorani io devo ringraziare la presidente dell'ASP2 Giulia Palestini perché in questo caso a differenza di sgombi precedenti è lei la legittima proprietaria dell'area che è stata ferma nel volerla liberare questa sera c'erano all'interno del campetto del campo del Castorani quattro persone che lo occupavano abusivamente a fronte di tantissimi cittadini ma di 30-40 uomini delle forze dell'ordine quindi non vedo per quale motivo chi è il legittimo proprietario non possa rientrare a casa sua la presidente Palestini dopo un lungo dialogo in cui lei stessa ci si è spesa in prima persona ha ribadito la sua soddisfazione e l'apertura per un dialogo lasciando aperte le porte a un'eventuale collaborazione è stata una grande conquista voglio prenderla come diciamo una vittoria un atto di civiltà ho parlato con i ragazzi anche adesso che sono entrata ho di nuovo ribadito la mia disponibilità ad aiutarli per qualsiasi cosa se vogliamo organizzarci per una collaborazione con dei laboratori a noi abbiamo bisogno tantissimo di un aiuto e di una mano io li ringrazio perché hanno dimostrato che si può dialogare e io ci ho sempre creduto glielo ho dissi già diversi anni fa l'altra volta non ci siamo riusciti questa volta io penso che loro hanno capito che ci sono le potenzialità per veramente regalare questo posto ai bambini e alla comunità e quindi diciamo che sono soddisfatta e spero che smaltita la rabbia ci si possa di nuovo vedere e parlare torniamo ad occuparci dell'uccisione dell'orsa a Marena è stata fissata l'udienza preliminare al Tribunale di Avezzano per il 23 di dicembre numerose le denunce delle associazioni che si costituiranno parte civile ne sono 38 e tra queste c'è anche quell'associazione che fa capo all'onorevole Brambilla Sonia Paglia La procura di Avezzano ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il processo contro Andrea Leombruni accusato di aver ucciso l'orsa Marena il primo settembre del 2023 Leombruni avrebbe agito con crudeltà e senza giustificazione aggravata dalla presenza dei due cuccioli dell'orsa non ancora autosufficienti l'udienza preliminare è stata fissata per il 23 dicembre apre finalmente il processo all'uomo che nella notte fra il 31 agosto 2023 ed il primo settembre 2023 sparò uccidendola a mamma orsa a Marena l'udienza è fissata davanti al GUP per il 23 dicembre del 2024 e la mia associazione Zampe che danno una mano a DV si costituirà parte civile con il patrocinio dell'avvocato Luciano Alisciani del foro di Avezzano chiederemo che i Leombruni venga condannato Leombruni che allo Stato è imputato del reato di uccisione di animale aggravato dall'assenza di motivazione e dalla crudeltà e del reato di cui l'articolo 703 del codice penale ovvero l'utilizzo di arma da fuoco in luogo aperto al pubblico e con l'espressa intenzione e volontà di uccidere l'orso il gesto di Leombruni è esecrabile è esecrabile censurabile sotto ogni profilo di una crudeltà assoluta ed intollerabile è sempre più necessario inasprire le pene per chi maltratta uccide gli animali perché solo quando si raggiungerà la piena tutela dell'animale e la sua vita verrà rispettata tanto quanto quella dell'uomo perché comunque è una vita questo è un paese che potrà definirsi civile quindi per Amarena saremo tutti in tribunale a chiedere che Leombruni abbia una pena esemplare per l'uccisione di Mamma Marena che come anche dal PM rilevato non era giustificata non era una legittima difesa ma era un gesto orrendo che ben si poteva e si doveva evitare invece ci spostiamo ad Isernia dove questa mattina la città ha celebrato i nonni e sì perché oggi il 2 di ottobre si celebra la festa dei nonni Pasquale Damiani andato in una scuola del quartiere San Lazzaro una giornata di festa per nonni e nipotini quella vissuta oggi a Isernia nella palestra della scuola primaria dell'infanzia dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII nel popoloso Rione San Lazzaro nonni che rappresentano un punto di riferimento importante per i piccoli sia a livello emotivo che affettivo e relazionale una festa pilastro fondamentale delle nostre vite ma cosa significa essere nonni oggi? è una cosa bellissima meravigliosa almeno per quanto mi riguarda è la gioia più grande che ci possa essere al mondo non solo molto bella ma anche tanto 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 importante nel senso pupino della parola la vita che cambia esatto che cambia però prosegue essere nonni oggi in danno si è molto fortunati perché essere nonni a questa età non è facile oggigiorno perché i figli si sposano sempre più tardi per cui si diventa nonni più avanti con l'età invece io sono molto fortunata perché mi ritrovo tre nipotini di cui una di cinque anni che oggi sarà questa manifestazione una di due anni e mezzo e l'altro appena nato per cui è una gioia immensa essere nonni oggigiorno specialmente a questa età così giovane non so se mi sento nonna o mamma una bella responsabilità non proprio come quando si era i genitori però comunque si collabora con i figli di oggi lavorano e quindi dobbiamo dare una mano e abbiamo anche noi le nostre responsabilità si torna ad essere più giovani? beh diciamo non proprio giovani più forti più forti di sempre perché il nonno deve essere presente in tutte le occasioni e servire i nipotini in particolare sempre i nonni e le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli sono presenze su cui ogni bambino nipote può sempre contare ci ricordano le sfide i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia da qui l'esigenza di avere qualcuno che in assenza del genitore sia presente a controllare il bambino e quel qualcuno spesso e volentieri è un nonno o una nonna in questa giornata ringraziamo tutti i nonni per il loro contributo nella crescita delle nuove generazioni e per il ruolo fondamentale che svolgono nella nostra società continua l'azione di rafforzamento del parco mezzi della provincia dell'Aquila con la consegna di tre nuovi autoveicoli destinati alla polizia provinciale l'amministrazione ha infatti dotato il proprio comando di tre SUV 4x4 Dacia Duster con allestimento di polizia provinciale che sono stati consegnati questa mattina nella sede dell'ente in via Montecagno il parco mezzi della provincia negli ultimi due anni è stato potenziato con l'acquisto di nuovi pick up questi nuovi acquisti si inseriscono all'interno di uno degli obiettivi centrali della nostra azione amministrativa dare il maggior supporto possibile ai nostri agenti affinché svolgano il proprio compito in sicurezza e serenità ha dichiarato Angelo Caruso presidente della provincia dell'Aquila che vedete in questo scatto insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine ed ora parliamo di controlli sui fondi per l'editoria che sono stati stanziati dalla regione molise l'ordine dei giornalisti ha stipulato convenzioni con gli ordini dei dottori commercialisti e con i consulenti del lavoro Stefania Potenti L'impiego dei finanziamenti pubblici erogati dalla regione molise a favore delle aziende editoriali attraverso la legge 11 del 2015 sarà oggetto di un'accurata operazione di controllo per raggiungere questo obiettivo a tutela dei professionisti e degli editori l'ordine dei giornalisti del Molise ha firmato apposite convenzioni con l'ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso e l'ordine dei dottori commercialisti di Isernia che sono state presentate ieri pomeriggio nella sede del Corecom Due ordini professionali i consulenti del lavoro di Campobasso e i dottori commercialisti di Isernia e qui abbiamo anche diviso e a breve anche l'ordine degli avvocati ci daranno una mano per la legge per l'editoria che è una legge di contributo che dà contributi agli editori e quindi di conseguenza ai giornalisti a tutto il comparto dell'editoria ce n'era bisogno appunto sulla trasparenza sull'efficienza sugli ordini in rete una garanzia per noi ma anche per gli editori stessi Le verifiche riguarderanno le spese per il personale se ad esempio i contratti sono a norma e quelle generali prenderanno il via controllando la documentazione di 5 aziende editoriali che saranno sorteggiate ma l'obiettivo è allargare il raggio d'azione a tutti i 17 operatori del settore è giusto che le risorse pubbliche restino nel pubblico le pratiche saranno affidate a due enti a cui presto se ne potrebbe affiancare un terzo l'ordine degli avvocati intanto l'ordine dei commercialisti e quello dei consulenti del lavoro sono pronti a fare la propria parte nella convenzione che abbiamo filmato con Cimino andremo a rendicontare tutte le spese che gli organi di stampa hanno fatto e andremo a valutare chi c'è e chi non c'è chi ci può stare e chi non ci può stare chi lo ha fatto veramente e chi non l'ha fatto veramente Il Presidente ci ha chiesto di mettere mani sui contratti su quello che è il nostro lavoro quindi noi andremo a verificare la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro lo faremo con la nostra commissione di certificazione che è un'attribuzione dei consulenti del lavoro quindi avremo una dodicina di colleghi ben disponibili ad analizzare questi documenti nel massimo della trasparenza e nella collaborazione istituzionale Grim informa i residenti dei comuni di Mafalda e Petacciato che a partire da oggi inizieranno le letture dei consumi idrici il personale incaricato e autorizzato sarà munito di tesserino di riconoscimento in modo di evitare spiacevoli equivoci e problemi e Campobasso è pronta ad ospitare la manifestazione Ciocco Italia che si svolgerà in corso Vittorio Emanuele da domani 3 ottobre a domenica 6 ottobre la 4 giorni accenderà i riflettori sul cioccolato e su innumerevoli creazioni in cui è protagonista grazie alla presenza dei maestri cioccolatieri ed aziende provenienti da ben sette regioni italiane Campobasso entra per la prima volta nel circuito di Ciocco Italia in tour si tratta di una opportunità per la nostra città e il nostro territorio sottolinea l'assessore Giose Trivisonno ricco anche il programma collaterale tra musica e spettacoli venerdì sera sarà possibile ascoltare della musica e anche del divertimento sabato sera andrà in scena un affascinante spettacolo di teatro domenica una ludoteca Campobassana divertirà i più piccoli con mascotte giochi bolle di sapone e palloncini bene è tutto con questa edizione del nostro telegiornale prima dei saluti prima di lasciarvi allo sport vediamo che tempo farà domani in Abruzzo e in Molise con il nostro meteo previsione del tempo per giovedì 3 ottobre su Abruzzo e Molise in Abruzzo tempo instabile con deboli piogge in intensificazione dal pomeriggio venti moderati mare da mosso molto mosso vediamo ora le temperature l'Aquila minima 14 massima 17 gradi Pescara 19,21 Chieti 16,20 Teramo minima 15 massima 19 gradi in Molise molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse venti moderati mare mosso vediamo ora le temperature Campobasso minima 14 massima 19 gradi Sernia 17,19 Termoli 21,26 Venafro minima 17 massima 20 gradi Bene è tutto con questa edizione vi ricordo che potete seguirci anche sui social sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram l'informazione torna questa sera in diretta con il collega Pasquale Damiani ora vi lascio ai consigli per gli acquisti tra pochissimo la pagina sportiva restate con noi grazie a tutti grazie a tutti I Lo sport è il calzo di Lega Pro, dunque calzo di Serie C, partiamo dal Pescara, De Marco si gode il gol realizzato contro il Carpi ed elogia il gruppo, domenica i bianco-azzurri di Baldini affronteranno Lascoli, sentiamo tutto dal servizio. Ci ha messo sette minuti per timbrare il cartellino e per sbloccare una partita bloccata, Antonino De Marco è stato uno dei protagonisti della vittoria del Pescara sul Carpi, il suo gol ha dato il via ad una serie di emozioni culminate con la rete da tre punti di Capitano Brusco. Ci meritiamo questi tre punti, abbiamo fatto una grande partita e penso che il risultato sia giusto. Penso che il Carpi sia una grande squadra che ci ha messo anche in difficoltà, però penso che oltre al gol che abbiamo preso non abbiamo rischiato niente, quindi penso che il risultato sia corretto. I bianco-azzurri si godono la vetta della classifica e lavorano con grande impegno in vista del prossimo incontro, la gara in programma domenica ad Ascoli con fischio d'inizio alle 19.30, un match che si annuncia scintillante contro una formazione che non gode un momento particolarmente felice. Di contro l'11 di Silvio Baldini non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul primo posto per continuare a guardare tutti dall'alto. I risultati ci stanno dando ragione perché siamo un grande gruppo, abbiamo un grande mister, la società ci sta sempre vicino e quindi penso che rispetto all'anno scorso qualcosa sia cambiato sicuramente. Però oltre a questo penso che le vittorie siano tutte meritate, quindi dobbiamo continuare così. Riprendono oggi gli allenamenti del Campobasso con la squadra che ha soffrito di 48 ore di meritato riposo dopo l'espluato ottenuto nell'ultima gara ufficiale. La squadra Rosso-Blu dopo aver conquistato tre risultati utili consecutivi lunedì sarà in campo a Terni contro la seconda in classifica. Mister Braia non potrà contare sul portiere guadagno, squalificato dal giudice sportivo, lavoro differenziato per il febbricitante mondonico. Gli altri invece godono di ottima salute e l'obiettivo è quello di ottenere un espluato in casa della seconda forza del girone. E ora andiamo in Serie D e ascoltiamo le dichiarazioni del direttore generale dell'Isernia, Giorgio Palmeggiano, che invita la tifoseria ad essere presente in massa domenica all'Ancellotta nel match contro il Teramo. Giorgio Palmeggiano intervistato da Antonio Di Franco. Direttore, l'Isernia esce da fermo con una vittoria, un inizio di campionato che vi aspettavate? Noi diciamo che non ci aspettavamo niente dal inizio del campionato, nel senso che dovevamo vedere anche il nostro livello in confronto agli altri. Eriamo convinti di aver fatto una buona squadra, per ora il campo ci sta dando ragione, adesso è importante mantenere concentrazione, testa bassa, lavorare partita dopo partita. E' chiaro che noi, e io lo dissi già una volta, sono tutte finali e l'unico approccio che possiamo usare è quello. L'impressione è che la squadra sia molto molto equilibrata, quindi molto ben costruita in fase di mercato. Noi abbiamo cercato chiaramente di fare del nostro meglio, per ora i risultati, ripeto, ci stanno dando ragione. Insomma diciamo che la nostra caratteristica deve essere sempre quella, corsa, fatica, sudore, aiutarsi su ogni pallone. La squadra così può dire la sua per la salvezza, chiaramente mantenendo l'umiltà giusta. Con domenica arriva il Teramo, si ripete la partita di Coppa Italia, in quell'occasione si impose il Teramo, ma l'isernia di oggi sembra ben diversa da quella della prima uscita. Beh sì, ci siamo chiaramente rodati, quadrati, siamo sicuramente una squadra migliore rispetto all'inizio, abbiamo più conoscenza di noi stessi, la squadra è migliorata. Adesso domenica speriamo che il risultato chiaramente sia diverso, noi ce la mettiamo tutta e vediamo di fare bene. Ecco, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni dopo questi primi risultati. Speriamo di avere tante persone all'Ancellotta, giochiamo in Sernia, quindi speriamo di avere tante persone, di avere un pubblico importante che spinga i ragazzi verso un altro importante traguardo. Restiamo nel torneo di Serie D per il notaresco terzo pareggio in successione, l'analisi del tecnico dei abruzzesi, Vincenzo Ciccone. Un X-Factor al cubo, il notaresco in cappa nel terzo 1-1 consecutivo, il secondo in successione con una marchigiana, e così come era stato nel turno precedente con la San Benedettese, si rammarica e non poco per quanto poteva essere, ossia un esplorato da tre punti, e poi non è stato, il venire raggiunto sul finire della contesa. La parte sua, il tecnico Mattia Evangelisti, non riesce a darsi pace. Sì, è sfumata anche domenica scorsa con la Samba, è a 95 esi in ricorre, quindi ci lecchiamo le ferite, perché posso rimproverare i miei che non abbiamo chiuso la partita, ma anche oggi abbiamo lasciato dei punti che sul campo, per com'è andata la partita, potevamo benissimo portarle a casa. Del resto, essendo anche in superiorità numerica, gli abruzzesi erano stati abili a gestire al meglio la situazione. Noi abbiamo subito qualche traversone di troppo, abbiamo preso un tiro da 35 metri con Diop, Paloma, se non concedi neanche un tiro da 40 metri, se devi essere la squadra proprio perfetta, ma la squadra non ha subito niente, anzi, ha fatto 4-5 ripartenze, che secondo me è lì dovevamo chiudere la partita, perché giustamente la cittadonese aveva tutte le carte in regola per pareggiarla almeno. Ed ora il basket di Serie A1 femminile, Sara Scalia top scorer tra i fiori d'acciaio nella sfida con Sassari, sentite tutto dal contributo. Tante attenzioni erano puntate su di lei, la guardia italo-americana prodotto di Indiana, Sara Scalia, ha subito messo in mostra le proprie qualità nell'opening day della Serie A1 di basket femminile a Genova. 18 punti e titolo di top scorer tra le magnolie nella sfida vinta di 28 sulla Dinamo Sassari, con anche 3 triple di assoluto talento. Da parte sua però, a referto chiuso la diretta interessata, preferisce guardare alla performance di squadra, più che alla propria prestazione personale. Abbiamo giocato bene insieme, cercandoci e trovando sempre i tiri aperti, andando a trovare il giusto momento per realizzare. Poi, merito alle sue sensazioni, la giocatrice rosso-blu fa ben intendere, è già tutta la propria indole ottimistica. Mi sento bene, attendevo il via alla stagione, c'è stato, ora attendo le prossime gare. Continuo a vincere i giocatrice. Sono test amichevoli che servono a tutti voi per prepararvi in vista del campionato. Sì, assolutamente. Innanzitutto parliamo di una compagine avversaria, per parlare un attimo della partita, che si conosce da tempo. Per cui noi quest'anno abbiamo praticamente una squadra totalmente nuova. È la seconda, terza partita che fanno insieme, al di là degli allenamenti, è ovvio. E infatti si è visto più che altro una carenza di, mi permetto di dire, di amalgama tra di loro. Ma ci sta. Mancava anche Zanettin, che nonostante tutto ci sta rimettendo. Quindi va benissimo così. Mi ha fatto molto piacere vedere già del pubblico, quindi vuol dire che tutti attendono che la Spike torni in campo. Speriamo che la preparazione continui, perché il campionato è a breve, inizierà. Però ci sta. Anche l'anno scorso in Serie B abbiamo iniziato un po' così e poi siamo stati campioni d'Italia. Abbiamo degli obiettivi quest'anno abbastanza chiari. L'ho detto sin dall'inizio. È una serie per noi totalmente nuova. Giochiamo contro squadre che fanno questo campionato da anni, per cui sicuramente sconteremo un po' di inesperienza. Però ci sta. È fisiologico, credo. Ci sono tante novità, Marco. A parte la categoria, si giocherà al Palavazieri. E poi è in corso la campagna abbonamenti. Invitiamo tutti a sostenere la squadra. Sì, insomma, giocheremo a Palavazieri per problemi tecnici, perché questa palestra dove giochiamo da ormai due anni non ha purtroppo l'altezza necessaria. Per obbligo di Lega e anche per necessità della società dovremo far pagare il biglietto quest'anno, essendo una Lega di Serie A. E di conseguenza abbiamo deciso di calmerare i prezzi per permettere a più persone di venirci a venire. E abbonamento a 50 euro, la famiglia a 45 euro, insomma, credo abbordabile a chiunque per lo spettacolo che cerchiamo di offrire. Abbiamo bisogno del pubblico, come sempre, perché è stato quello che ci ha permesso di vincere anche l'anno scorso. Quello che ci ha reso anche campioni d'Italia, perché è vero che i giocatori sono bravissimi, ma ci sono, voglio dire questo, ci sono giocatori quest'anno che hanno scelto il campo basso perché hanno sentito parlare del nostro pubblico e volevano giocare davanti a un pubblico caloroso come il nostro. Questo ci onora e quindi chiedo ai campobassani, ai molisani in generale, ai diamanti della palla a volo, di venirci a vedere. Bene tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.